il magico vincitore è Re Costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi vi porto cinque nomi che sono molto chiacchierati e che quindi nelle live che sto facendo un po' tutti i giorni mi portate sempre che faccio con tizio che faccio con caio e oggi vi dirò non solo quello che penso ma anche con chi andrei a scambiarlo e con chi invece non andrei a scambiarlo quel nome lì quindi sarà un video veramente importante e vi invito subito a lasciare un like e a iscrivervi al canale mi raccomando l'iscrizione è importante perché vi permette di venire in live e ne sto facendo come dicevo uno al giorno per cercare di darvi supporto sui fantascambi quindi mi raccomando iscriviamoci tutti al canale vi ricordo di andare a seguirmi anche su instagram e sulla piattaforma viola perché anche sulla piattaforma viola porto dei contenuti in live sempre fantascambi in questa settimana la prossima settimana ci saranno anche i fanta consigli bene ragazzi prima di cominciare con i nomi volevo fare una p un piccolo inciso sulla partita di ieri nell'italia allora io ero in in call con i ragazzi che faceva un'asta di riparazione quindi non ho potuto vedere la partita oggi sono andato a vedermi gli highlights volevo dire due cose una su di mar perché magari ovviamente non è il nome in questo video su di marco quello che io non riesco a capire no perché di marco gioca a braccetto di sinistra all'inter cioè questa è una cosa inspiegabile per me un giocatore che non ha nella fase difensiva il suo pregio mi gioca a braccetto di sinistra si è visto ieri quando mancini l'ha fatto giocare nella posizione più avanzata ha preso un palo ha dato un pallone al bacio a barella anche se forse lì c'era fuori gioco però l'ha messo quel pallone ed era sempre in proiezione offensiva ecco perché gioca darmian a sinistra esterno e non gioca di marco io non riesco a capire come faccia uno con quel piede lì a dover giocare a 80 90 metri dalla porta ecco questo per me è spiegabile e seconda cosa per tutti quelli che mi dicono tu eri convinto dire che raspadori potesse far bene al napoli io ve lo ripeto guardate quel gol che fa raspadori cioè quello è un gol da chi ha tanta ma tanta ma tanta tecnica secondo me raspadori se gioca dietro alla punta dietro a uno simen o anche a un simeone in un 4 2 3 1 può fare benissimo fare ruolo di punta per me è un adattato quindi potrebbe non esprimersi sui suoi livelli l'abbiamo visto anche al sassuolo però per me raspadori è un giocatore con tanta tanta qualità io ieri ad esempio e poi conclude vado con i nomi l'ho svincolato nel fantazio cristiano ma perché l'avevo pagato 61 credit su 500 12 per cento e allora in quel caso essendo un giocatore che bisogna vedere quando comincerà a giocare nel suo ruolo allora in quel caso lo svincolo anche perché c'erano fuori i milic di ai piontech e quindi l'ho fatto per quello e anche perché volevo prendere vlasic a centro campo va bene cominciamo con i nomi primo nome mario pasalic questo è un nome che mi arriva 10 15 20 volte in una live su youtube perché chi ha pasalic magari vorrebbe toglierlo toglierlo mentre magari chi non ce l'ha vorrebbe andare a prenderlo io vi porto questo dato allora pasalic ha fatto 343 minuti in questa serie a che non sono alla fine pochissimi in sette giornate se dividiamo per sette avrà fatto quasi 50 minuti a partita però non sono neanche un minutaggio di un titolarissimo di uno che ha fatto 13 gol in una stagione ora vi dirò i nomi per cui vi dico per questo nome lo daresti lo potresti lo potresti anche dare mentre perché invece non lo darei mai e colgo l'occasione per dire anche che proprio adesso su instagram prima di cominciare il video penso un minuto fa uno mi ha scritto pasalic lo do anzi lui forse voleva prendere pasalic lo do lukic per pasalic troverai la risposta in questo video allora perché si nel quadernino mi sono scritto dei nomi in modo tale da essere molto ma molto preciso per chi potreste darlo ovviamente ragazzi parlo vado sempre al limite in modo tale che quelli più su capite che se vi danno qualcosa di meglio ancora dei nomi che vi ho messo potete andare a prenderli quindi i tre nomi che vi faccio per cui lo scambierei ora sono strefezza radonic e zaniolo questi sono tre nomi che potrebbero potreste accettare per pasalic perché ovviamente se vi parlo di te che è ovvio io vado a prenderlo anche se qualche volta mi arriva anche un nome del genere però è ovvio se vi dico che che lo do anche per uno strefezza non radoni non radoni ovviamente i giocatori che vedete nelle fasce ecco per chi è abbonato ancora meglio ma per chi non fosse abbonato può andare a rivedersi il file nel video e capirete che tutti quelli che stanno su potete farlo mentre per chi non lo scambierei tra ore candreva lukic tonali quadrato ecco questi sono i nomi che spesso potrebbero invogliarvi direbbe pasalic glielo do l'unico motivo per cui potreste dare pasalic anche per un giocatore magari inferiore ai tre che vi ho detto ora è quello che magari non abbiate un centrocampo titolari magari in un fantacalcio a 12 in cui avete bisogno di titolarità pasalic non sapete mai quando vi prende voto e quando no magari allora potesse anche darlo per un totoc andrea ma se avete quantomeno una squadra equilibrata con titolari io passage o lo aspetto o mi devono dare un giocatore di quello secondo nome vado con un altro centro capista così dopo passiamo a quelli che vi interessano ancora maggiormente gli attaccanti secondo nome marcello brozovic è un centrocampista definito un po da tutti anche da me un regolarista uno che vi porta dei buoni voti qualche assist esporaticamente qualche gol e invece quest'anno già ha portato due bonus ha portato due gol io sono del parere che se ho brozovic al momento proverei a scambiarlo perché sicuramente sta overperformando è un giocatore che non è che si spinge davanti però se gli capita magari può far gol però io non credo che un brozovic arrivi a 10 gol cioè perché se in sette partite fai due gol se dovesse mantenere questa media a 35 partite dovrebbe essere a 10 gol ecco per me sta overperformando e magari di solito due tre gol li fai in un anno non in sette partite allora su brozovic vi porterò solo dei nomi con cui andare a scambiarlo perché non scambiarlo vuol dire dei nomi inferiori ma non vedo tanti nomi quindi brozovic non lo scambierei nel senso lo capite da voi che non andreste a scambiarlo allora i nomi che potreste puntare secondo me per uno scambio con brozovic sono samarzic che è un giocatore che se si prende il posto da titolare può essere un giocatore devastante daviduccio frattesi e junior messias io per questi tre per uno di questi tre lo farei per diversi motivi perché un samarzic è uno da bonus anche partendo dalla banchina un frattesi secondo me i suoi sei gol li possa fare tranquillamente e già è a due anche lui è lo stesso messias che per me è un titolare del milan e rispetto a un salemakers lo vedo molto ma molto più titolare vi dicevo scambi no perché se non vi danno penso un frattesi o un messias o un samarzic non andreste a scambiarlo cioè vi tenete brozovic e amen passiamo agli attaccanti gli attaccanti che sono quelli che mi arrivano sempre cioè volete che non arrivi non uno ma cinque sei messaggi a live su pinamonti arrivano io vi dico come la penso allora pinamonti sicuramente sta facendo tanta tanta fatica però ragazzi dobbiamo anche capire che pinamonti è arrivato da poco è arrivato quest'anno al sassuolo e gli sta mancando mimmo berardi che alla fine è il giocatore con maggior qualità nel sassuolo e devo dire anche che manca tra ore che era un altro giocatore che saltava l'uomo che creava superiorità e l'altra cosa che in tanti magari non non ci fanno caso no quando tu hai un berardi un tra ore che ti sblocca la partita quindi tu sassuolo vai in vantaggio non devi magari inseguire e ovviamente le altre squadre si sbilanciano per andare a recuperare la partita e in quel frangente l'attaccante è ancora maggiormente a maggiori possibilità di portarci un bonus perché è un conte giocare a difesa schierata un altro conte con una difesa che cercano di andare a recuperare la partita magari negli ultimi 15 minuti ecco detto questo io vi dico con chi scambierei e con chi non scambierei pinamonti allora con chi scambierei uno sicuramente lo scambierei l'altro dipende e vi spiego anche perché il primo nome con cui andrei a scambierei pinamonti è proprio beto perché lo farei in questo momento beto mi dà sicurezza beto so quello che mi può dare è l'attaccante titolare dell'udinese ha superato che era l'unico mio dubbio i problemi fisici che si è portato dalla passata stagione i suoi gol li sta portando tranquillamente e quindi per lui io oggi lo farei a 100 per cento poi vi porto un altro nome uno di quelli che potreste fare lo scambio anche perché non ci sono tantissimi nomi diciamo pari e pari uno a uno scambiano uno per andare a scambiare pinamonti perché o non ve lo darebbero mai quel giocatore oppure ci andresti a perdere e l'altro nome del ufeo il compagno proprio di squadra intanto chiude le casse il compagno di squadra di beto del ufeo magari potrebbe portare meno gol anzi direi quasi sicuramente potrebbe portare meno gol di pinamonti però va a colmare quei gol mancanti da parte di pinamonti con gli assist e con la media voto perché anche contro l'inter del ufeo non fa gol però i bonus li ha portati ha portato gli assist una grande prestazione e quindi secondo me si potrebbe anche scambiare in virtù del fatto che del ufeo vi anche per tutta per tutto l'anno vi garantisce questi bonus ma anche una certa titolarità perché pinamonti al momento io lo vedo titolarissimo nel sassuolo però c'è anche quella alvarez lì che tanti dicono sì ma alvarez non ruberà mai il posto a pinamonti io mai non lo userei questo termine perché alvarez per me è un gran giocatore e o verrà adattato in un altro ruolo magari in un 4-2-3-1 o nel 4-2-3 magari largo a sinistra oppure che fai alvarez ci hai speso 12 milioni non lo fai mai giocare quindi oppure potrebbe anche rubare un minutaggio più importante a pinamonti perché pinamonti anche contro il torino che non ha fatto bene almeno a mio potesto parere scurso se l'è messo in tasca ha giocato pochissimi minuti ecco con quel gol magari invece di entrare all'ottanta e passa esimo magari lo vedremo lo possiamo vedere vedere subentrare al sessantacinquesimo al settantesimo lì poi si può incominciare a dire magari 65 minuti di pinamonti in cui non vede palla e 35 di alvarez fa una doppietta e poi non lo so se alvarez sarà sicuro il panchinaro sempre e comunque di pinamonti ecco ha fatto il caso spinoso di pinamonti andiamo ora su un overperforming andiamo su olivier giru questo è un altro giocatore che chi lo ha magari vorrebbe monetizzare e capire chi andare a prendere al suo posto o magari chi non lo ha dice vediamo se riesco a prendere olivier giru e qui vi porterò tre nomi con cui io andrei a scambiare giru e magari altri cinque nomi con cui non lo scambierei allora olivier giru prima di cominciare e dirvi nomi vi dico è un giocatore che sicuramente sta sta facendo più di quello che ci si aspettava però bisogna anche dire che è l'attaccante titolare del milan perché orighi che poteva magari anche rubargli del minutaggio è sempre rotto ibra lo sapevamo che non c'era e davanti quindi è lui l'attaccante titolare ma anche direi insostituibile nel senso che il milano quando non vuole far riposare un attimo giru deve mettere delle alternative perché a volte magari ha spostato dei ketelar però sono tutte cose aranciate quindi giru al momento e siamo sicuri che sia il nostro titolare attaccante al milan rigorista partendo da questo presupposto allora i giocatori i tre giocatori con cui andrei a scambiare ad oggi giru sono berardi che non rientrerà alla sosta c'era chi diceva no rientra sicuro alla sosta no a me lo so io non dovrebbe rientrare alla sosta forse tra due o al massimo se proprio si dovrebbe andare con tanta cautela da parte del salsuolo tra tre partite e per berardi lo farei questo ragionando sul lungo periodo mentre sul breve cioè giocatori che sono già pronti e potreste andare a prendere sono due arnautovic che secondo me è vero che anche lui sta overperformando però sappiamo che arnautovic è il titolare inamovibile del bologna e anche rigorista aggiungere e poi devo dire anche che nonostante all'ultimo non abbia segnato secondo me il bologna la sua partita soprattutto nel secondo tempo l'ha fatta e se arnautovic fa arrivare palle golli gol lo fa quindi io per arnautovic lo prenderei lo farei e poi lo farei per tammi ebram un giocatore che ora quasi non lo vuole più neanche sua mamma però secondo me è sbagliato cioè tammi ebram io mi aspetto che ne so 15 gol io me li aspetto da danno pure se è partito male fa nulla è stato anche tanto sfortunato si è parlato tanto di quel gol sbagliato in roma atalanta a tu per tu con il portiere secondo me non era neanche semplicissimo perché c'aveva proprio il portiere davanti lì poteva fare una cosa diversa magari cercare di alzare quella palla e sul sulla testa del portiere poi andare a riprendere e buttarla dentro poteva fare una cosa diversa poteva fare gol che è quello che gli è mancato però la prestazione non è stata malvagia perché alcune azioni le ha portate avanti lui ha salvato un gol poi è ovvio che l'attaccante viene valutato sempre e solo per i gol e lui non l'ha fatto mentre per chi non andrei a dare Giroud il primo nome sicuramente farà discutere però lo sapete io non ho problemi a espormi a prendermi le critiche il primo nome è duvan zapata vi porto zapata perché credo sia il caso limite perché ci saranno alcuni che dicono io per zapata lo faccio io non lo farei soprattutto per un motivo zapata è rotto e deve ritrovare la condizione fisica che neanche aveva cioè non è che zapata prima dell'infortunio stesse facendo una stagione sfavillante ma è ovvio è un armadio a quattro ante e quindi per rimè per mettersi in condizione infatti zapata tutti gli anni iniziava a fare bene 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 da ottobre in poi dopo un certo periodo perché un po come anche lukaku hanno un fisico importante e quindi io ora andare a scambiare Giroud per un giocatore che è infortunato che non so quando torna e come torna in che condizioni torna e e terzo ci aggiungerei anche c'è un certo oilun che tanti dicono sì ma aspetta che torna zapata io io me lo prendo intanto oilun poi se non mi giocherà se mi giocherà poco poi lo vediamo intanto me lo prendo intanto me lo prendo perché tanti cioè non so preciso però credo che su youtube il primo appena è arrivato che è venuto a farci un video a dirvi questo è un fenomeno l'ho fatto io quindi ci credo su quel nome ovviamente ci credo ancora di più nel momento in cui la seconda partita in cui poteva giocare subito gli ha dato fiducia gasperini si infortuna zapata non mette muriel e mi mette oilun quindi la considerazione parte dell'allenatore è totale quindi assolutamente quindi detto di zapata non lo darei poi ovviamente neanche per muriel per pinamonti per jovic e neanche per beto anche beto è un caso limite però se devo scegliere l'attaccante mi tengo quello del milan e poi c'ha anche i rigori dalla sua parte quindi mi tengo girù credo che siamo chiari su girù andiamo sull'ultimo attaccante sul quale mi chiedo una montagna di like però ragazzi siamo arrivati all'attaccante più discusso direi di queste live dujan blaovic voglio vedere una montagna di like però su dujan blaovic dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi e anche iscrivetevi al canale dujan blaovic vi dico la mia prima di dirvi i nomi ovviamente allora blaovic viene visto ora come un attaccante che potrebbe essere un flop allora io vi avevo già detto a inizio anno quando abbiamo fatto qualche live anche con lo zio cristiano con fantatori dicevano per loro blaovic era il capo cannoniere di quest'anno annunciato la mia perplessità infatti l'avevo anche palesata infatti non lo mettevo come capo cannoniere era il gioco di alleghi fa pena bene dopo le prime giornate ancora parlando anche sempre nel gruppo dei fanta youtuber omar era convinto che blaovic con i gol che stava facendo sarebbe stato lui io la mia perplessità era sempre quella non è blaovic perché blaovic per meno attaccante fortissimo forse il più completo anche che abbiamo in serie a e il mio problema era sempre quello sì blaovic aveva fatto i gol ma due punizioni un rigore è un solo gol su azioni e io non sono il tipo che valuto un giocatore per i gol che fa no io valuto anche tutto quello che c'è intorno e a me il gioco della juve ma basta seguirmi nei fanta consigli ce ne parlo male di allegri dalla prima giornata ad oggi quindi non è che sto inventando nulla e quello è la mia perplessità perché blaovic forte quanto vuoi ma io faccio fatica a vedere un attaccante che faccia 25 gol se non gli arrivano palle gol cioè questa cioè per me blaovic che ha fatto quei quattro gol ha fatto anche tanto per quelle per quello che gli stanno dando ed è quello un po il punto interrogativo che avete tutti voi fantallenatori ecco io però vi dico la mia il giocatore per cui io oggi andrei a scambiare blaovic dando qualcosa in più perché ovviamente pari e pari non ve la faranno mai è solo Ciro Immobile e Ciro Immobile perché è ripartito come aveva finito io vi dico la verità non avevo anche tanti dubbi cioè l'unico dubbio che uno potesse avere che Immobile capita spesso che un anno fa benissimo e l'anno dopo no però io quest'anno avevo meno dubbi infatti quando dicevo su Immobile dicevo non è cambiato nulla per lui c'ha sempre Felipe Anderson da una parte Zaccagni dall'altra Milinkovic e Luis Alberto c'è Sarri in panchina la punta di Sarri bene o male i gol li fa un minimo di gioco Lazio di Sarri ce l'ha sempre anzi direi che le palle gol gli arrivano e poteva fare anche più gol Ciro Immobile se vogliamo perché oltre a Gremonese ne ha fatti due ma ne poteva fare 4-5 tranquillamente e quindi per me era lui l'attaccante che potesse essere il capocannoniere quindi è l'unico per cui andrei a andare a Vlaovic e Ciro Immobile perché non lo darei per Lukaku che è un altro giocatore che io lo mettevo davanti a Dujan Vlaovic non lo darei perché io quando si infortunano soprattutto questi giganti come Lukaku ho paura poi ad andare a prenderlo e dare magari un Dujan Vlaovic perché un Lukaku magari sarà anche titolare in Inter Roma la ripresa però bisogna vedere come ci torna perché già io lo vedevo come dire non in formissima infatti anche lui ha dichiarato che ha una decina di chili in più rispetto all'ultimo Lukaku che abbiamo visto infatti non lo so io lo vedevo meno devastante in alcune in alcune situazioni poi è Lukaku e ovviamente è un giocatore che ci piace però non lo so io ora per Vlaovic chiedo solo Immobile per Lukaku mi devono dare altro e vi faccio anche qualche nome cioè io se do Vlaovic voglio Lukaku più o uno strefezza o un Pereira o un Sabiri un giocatore un centrocampista magari di quel range lì oppure se ho un modificatore importante magari un Tomori un Kalulu un Di Lorenzo e in questo caso allora potreste anche farlo bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video io spero che questo video vi sia piaciuto porto questo video proprio per voi che avete tantissimi fantascambi e questi sono i cinque nomi più chiacchierati delle live mi raccomando lasciamo un grandissimo like iscrivetevi al canale e ci vediamo in live oggi per sempre i vostri fantascambi ciao ragazzi